Radio Radicale, siamo con Paolo Guzzanti per parlare di Stati Uniti, delle polemiche che hanno seguito la pubblicazione di questo libro su Donald Trump, sui retroscena della prima fase della sua presidenza, Firefari. Che valutazione dà di tutta questa polemica? Toccherà Trump? Siamo ai livelli di pre-Watergate o ritiene che Trump ne uscirà più forte di prima? Nell'una o nell'altra, nel senso che non ci sono, non c'è aria di impeachment e questo è un libro scritto da un autore, questo Michael Wolff, che non ha partecipato alla campagna di Trump. Si è intrufolato amichevolmente nella Casa Bianca dove è stato per tutti questi mesi un ospite gradito e chiacchierato con tutti, compresi il Presidente, non ha reso noto la sua intenzione di scrivere un libro su Trump. E poi ha raccolto e messo insieme tutte le dichiarazioni, comprese quelle dei parenti, figli, giornalisti, amici, in cui qualcuno diceva che Trump è un idiota, ha fatto un'idiozia, questa è una gretineria, però in certe volte è proprio un idiota, si è comportato un idiota. Allora su questo ho fatto questo dossier, scritto molto bene, ma fondato fondamentalmente sulla testimonianza di Steve Bannon, che è stato un grande, diciamo, il braccio destro ideologico di Trump e che poi l'ho ammollato e che adesso è un suo avversario. Allora stiamo assistendo ad una campagna direi di tipo mediatico diffamatorio, molto nota come genere tipica della sinistra mondiale, in Italia l'abbiamo vista con Cossiga, Cossiga ha dichiarato pazzo, Cossiga doveva essere portato via con una lettiga dagli infermieri, Cossiga doveva essere costretta a dimettersi perché è incapace di intendere e di volere, poi c'è stato, prima ancora c'era stato Craxi, Craxi l'operazione riuscì perché Craxi fu costretto a andarsene a morire in Tunisia, poi è stata fatta con Berlusconi l'unico caso di leader mondiale del Parlamento cacciato con una legge retroattiva, con tutte queste campagne riguardanti i fatti privati, personali, eccetera, eccetera. Quindi la fine non è nota, il metodo è noto. Trump sembra molto solido in sella, tuttavia siccome l'America è veramente la patria della democrazia e c'è questo test fondamentale di quest'anno delle elezioni di mezzo termine, lì si vedrà se Trump supererà o no questo traguardo, cioè se perderà il Parlamento, Camera, Congresso e Senato o se invece riuscirà a vincerlo. E questa campagna punta non tanto a farlo cadere o incriminare ma a renderlo un'anatrazzoppa, come si dice, come dicono gli americani, un uomo ormai che può dire quello che gli pare. Per questo c'è anche chi pensa con fondamento di ragione che Trump stia preparando un colpo militare contro la Corea del Nord dopo i giochi invernali che si stanno per svolgere nella Corea del Sud. Ma lì è una partita molto complicata perché giocano molti attori che non sono soltanto Trump, gioca il Giappone, gioca la Cina, gioca la Corea del Sud. C'è un'area di estromettere l'America dal campo dell'Estremo Oriente e Trump lì si gioca qualcosa di più della sua immagine televisiva. È una partita di lungo termine, il termine sarà quello delle elezioni di mezzo termine, scusate la ripetizione, però è così. E c'è questo tam tam fortissimo, ferocissimo, alimentato per tutti anche i nostri inviati televisivi che non fanno che indichiarare quanto Trump sia una persona mostruosa, incredibile, pazzesca, ignorante, ignobile, razzista, stupido, eccetera, eccetera. Tutto questo, chiunque sappia l'inglese, legga i giornali e possa rendersi conto di persona, fa parte di una grande e tremenda campagna. Nixon fu estromesso con una grande e tremenda campagna, ma lì c'era, diciamo, quel c'è. Preceduta anche dall'estromissione del suo vice che fu costretto... Certo, 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 Spiro Egnio, Spiro Egnio era il suo vice di origine greca e intanto che dopo la caduta di, ormai bisogna avere parecchi anni per ricordarselo, dopo la caduta di Richard Nixon, l'uomo che chiuse la guerra nel Vietnam aperta da John Fitzgerald Kennedy, il divo delle sinistre, che chiuse la guerra nel Vietnam, Nixon il cattivo di destra la concluse, Nixon apria la Cina, non la Cina di Occhie, la Cina di Mao Zedong, una cosa impensabile. Tuttavia, cadde, addirittura allora dovettero eleggere, nominare, anzi a norma di costituzione Ford, che era, se non sbaglio, il chairman. Comunque, oggi questa situazione non si ripete, ma la campagna era di tipo assolutamente analogo. Un'ultima valutazione, trova che ci sia, diciamo, sia un po' insolito questa situazione, cioè, mentre Trump è sotto attacco, la borsa va bene e lui risponde colpo su colpo agli attacchi che gli arrivano, mentre noi siamo abituati qua in Italia e quando c'è un attacco di questo genere, mediatico, c'è la cosiddetta congiura del silenzio. Allora, queste sono, diciamo, delle valutazioni anomale su questa situazione, secondo lei, oppure è giusto che sia così? Io adoro Trump, devo dire, anche per questo, perché lui viene dal reality show, si comporta come un grande presentatore televisivo, è uno che quando lancia i suoi Twitter, poi aggiunge, stay tuned, cioè restati in onda, come faceva quando dirigeva un programma, e risponde colpo su colpo, cosa che non è diplomatica, non è nelle buone creanze, nelle buone regole, ma Trump rompe le buone creanze e anche le scatole a chi è portatore del politicamente corretto. Certo, lui risponde con parole grosse ai missili veri e grossi del dittatore nordcoreano, per cui quando quello gli dice io ho un bottone sulla scrivania per mandare un missile con bomba atomica sui Stati Uniti, lui risponde io ce l'ho più grosso di te, di qui, tutta la campagna, so chi ce l'ha più lungo, però il bello di Trump è questo, sta in campana, sempre su piazza, non si comporta come nessun altro presidente, neanche repubblicano affatto, piacerà o non piacerà, certamente alle sinistre superciviose, radical chic, la gauche caviar, non piace, anzi vomiti, tremendi, malori solo a sentire la parola Trump, le nostre presentatrici televisive anche si sentono in dovere, quando dicono Trump, di prendere le distanze, di portare un fazzoletto al naso. Questo ce lo rende a noi liberi, libertari e liberali estremamente simpatico, speriamo che non si faccia del male da solo. Certo, Ben non si è pentito di quello che ha fatto secondo lei? Ben non ha dato dei segni di pentimento che sono stati... O cedimento. Ecco insomma un po' cialtrone è stato, perché visto, lui non si aspettava naturalmente, che Michael Wolff lo rendesse protagonista del suo libro, c'è l'intero quarto capitolo del libro di Wolff, che è tutto dedicato a lui. Si è trovato in mezzo a una situazione molto imbarazzante per una persona per bene e a naspa dicendo che non intendeva, non inteneva, anzi che lui non ha mai detto che il figlio di Donald Trump, Donald Junior Trump, fosse un traditore per i suoi rapporti con i russi, fa marcia indietro e quindi ha fatto una figura diciamo molto miserabile. Bene, io la ringrazio molto della sua disponibilità, soprattutto per averci parlato di questo bestseller di Wolff che è uscito negli Stati Uniti, la ringrazio grazie a Paolo Puzzanti. Grazie a lei, grazie a chi c'è più ascoltato e visto.